Perché hai scritto questo libro? Ho scritto questo libro innanzitutto per liberarmi di tante emozioni che portavo dentro di me e sono arrivata alla conclusione che è stato quasi terapeutico perché tante volte teniamo delle emozioni che a volte ci logorano dentro e invece scrivendo questo libro mi sono liberata e sono sicura di aver aiutato anche molte ragazze che si trovano nella mia situazione. Un diario? Sì, è un diario. Inizia come una lettera per un ragazzo e invece poi diventa proprio un vero diario, un momento quasi intimo dove si parla di emozioni, di amore, di rabbia, quindi è proprio un diario. È dedicato a qualcuno questo libro? Sì, è dedicato, diciamo, è ispirato appunto a una persona che ha fatto parte della mia vita e da lì ha, diciamo, scaturito diverse emozioni. Sara, questo libro è stato presentato a Carfizzi? Sì, è stato presentato a Carfizzi, è stata la presentazione al Parco Letterario Carmine Abbate e è stato veramente molto bello, è stata la mia prima presentazione, quindi è stato emozionante, c'è stato un dialogo, è stata quasi una chiacchierata con gli ospiti appunto che erano presenti. Hai intenzione di scrivere qualche altra cosa, un altro libro? Sarebbe molto bello perché aiuta a me, perché mi piace molto scrivere e chissà, magari in un futuro qualche altro libro mi farebbe molto piacere scriverlo. La tua attività come editrice continua senza sosta? Sì, è da un paio d'anni e siamo emozionatissimi perché piano piano stiamo crescendo ed è una cosa molto bella, una grande soddisfazione per noi, anche perché diciamo che è la prima casa editrice in Calabria guidata da una donna, quindi mi sento anche orgogliosa ma con una forte responsabilità. A Carfizzi hai fatto presentare il libro a Sara? Sì, abbiamo presentato questo libro nel parco di Carmine Abate e il sindaco Amato e il vice sindaco Gatto sono stati grabatissimi e hanno organizzato veramente alla grande. C'era tantissima gente, tutti motivati e hanno fatto tantissime domande. La nostra autrice era molto emozionata perché è la sua prima presentazione ma ne faremo altre sia in Calabria che a Torino e a Roma sono già organizzate. Come editrice, qual è il genere di lettura più richiesto? Assolutamente romanzirosa perché la gente ancora ha voglia di sognare, ha desiderio di amare e di essere amata quindi questa è una cosa che ci fa capire che ancora nell'umanità c'è qualcosa di bello. Ci sono autori che si rivolgono a te, è cresciuto il numero delle persone che vogliono pubblicare i propri libri e lo vogliono fare attraverso una casa editrice della nostra terra? Sì, assolutamente sì, tantissimi, tantissimi. Abbiamo un pochino la nomea di essere un pochino molto severi ma è importante essere severi perché è importante che arrivano nelle librerie e nelle librerie di casa dei libri importanti perché oggi tutti scrivono e pochi leggono. È importante selezionare ed è un compito difficile per un editore, per un vero editore. Io sono un pochino all'antica anche se sono alle prime armi come editore e stiamo pubblicando anche tantissimo in Albania e in Kosovo.